Il secondo appuntamento per il Consiglio Comunale di Berignisi dopo la prima seduta, prettamente burocratica, anche nel secondo appuntamento, si completerà l'iter della composizione delle commissioni, ma si affronteranno anche le prime interrogazioni e ordini del giorno presentate dalle opposizioni. Non ci sarà invece tra gli argomenti il bilancio di previsione che era previsto per legge entro il prossimo 31 di luglio, che però slitterà ad agosto inoltrato. Io avevo dato la disponibilità affinché la mia presidenza fosse aperta alle opposizioni, sempre trasparente e disponibili a tutti. Infatti il primo punto all'ordine del giorno sarà un'interrogazione del Consigliere Alessandro Antonino che riguarda la vicenda stadio. Ma non solo, ci sono infatti degli adempimenti che sono obbligatori, quali per l'appunto l'istituzione delle commissioni consigliari e le linee di indirizzo per la nomina negli enti partecipati dal Comune. Ma c'è anche qualcos'altro di interessante, di sicuramente utile alla cittadinanza, penso al regolamento sul garante per le persone diversamente abili o ancora i provvedimenti relativi alla rottamazione delle cartelle sattoriali. Quindi sicuramente un Consiglio Comunale importante in cui mi auguro ci sia una forte presenza di pubblico per riavvicinare poi la cittadinanza alla politica. Con un insediamento così tardivo del Consiglio Comunale dovuto alla burocrazia italiana, diciamo così, era difficile rispettare i tempi sicuramente, tant'è che questo Consiglio si sta tenendo il 28 luglio, quindi il bilancio andrà sicuramente in un prossimo Consiglio Comunale. Però la documentazione necessaria ai consiglieri per documentarsi appunto di essere informati rispetto a quelle che sono le iniziative dell'amministrazione è già nelle loro disposizioni e sicuramente il Consiglio successivo riguarderà per l'appunto il bilancio di previsione. Grazie a tutti.